Ciao ragazzi e ciao ragazzi, in questo video vi voglio parlare di alcuni rimedi naturali per combattere i brufoli quindi ingredienti naturali che potete utilizzare o comunque piccoli accorgimenti che sicuramente vi saranno tanto utili iniziamo subito il primo rimedio naturale che vi voglio dare è quello del limone perché il limone è un ingrediente acido, una sostanza acida che serve tantissimo per fungere da un po' da disinfettante e purificante per la pelle se avete una pelle che non è particolarmente sensibile lo potete applicare anche su tutto il viso se no io vi consiglio, come faccio spesso io, con un cotton fioc lo bagnate su un po' di limone e così lo applicate sul singolo brufoletto in questo modo i brufoletti si seccheranno il secondo rimedio naturale è quello del bicarbonato l'ingrediente è basico che però è molto molto purificante e serve anche per schiarire le macchie della pelle infatti è ottimo anche per i segni post brufoli quindi magari se avete una situazione di brufoli che stanno anche guarendo però c'avete segni quindi segni post brufoli potete semplicemente miscelare un po' di bicarbonato con un po' di acqua e poi applicare questa pappetta o su tutto il viso appunto o sui singoli brufoletti aiuta tantissimo a seccare i brufoli, a disinfettarli e ad eliminare anche le macchie della pelle il terzo rimedio naturale è un po' molto simile a quello del limone ovvero l'aceto perché anche l'aceto come il limone è molto disinfettante e purificante però essendo comunque una sostanza molto molto acida vi consiglio di applicarlo localizzato soltanto sui singoli brufoletti è miracoloso l'aceto applicato con il cotto fioc secca e brufoli e anche l'aceto ha un potere schiarente quarto rimedio naturale è l'argilla l'argilla ragazzi è ottima per le impurità della pelle non solo i brufoli ma anche punti neri, pori dilatati, tutto faccio delle maschere all'argilla io infatti se vi ricordate la carlita piperita a base di argilla poi comunque in commercio se non la volete fare voi anche se non ci vuole nulla basta semplicemente miscelare l'argilla con un po' d'acqua e comunque si vendono anche già pronte le maschere all'argilla vanno applicate o su tutto il viso oppure anche in questo caso potete anche applicarle localmente ad esempio se avete una serata oppure comunque andate di fretta magari il resto della pelle sta bene volete semplicemente combattere questi due tre brufoletti potete anche applicarlo localmente sui singoli brufoli aspettare che si secchi quindi un 10 minuto e un quarto d'ora poi sciacquate e già i brufoli si sono disarrossati seccati e quindi leniti il quinto rimedio naturale è il dentifricio il dentifricio è il rimedio della nonna perché veramente è da anni che si usa magari le nostre mamme, le nostre nonne ci hanno tramandato questa cosa di prendere il dentifricio e applicarlo sui brufoletti e funziona tra i tanti rimedi della nonna folli che si sono a volte alcuni sono anche un po' pericolosi che si leggono un po' in giro io sto sempre un po' attenta invece quello del dentifricio funziona davvero ragazzi perché il dentifricio alla fine è una pasta formata comunque da argilla da bicarbonato, da ossido di zinco quindi sono tutti comunque ingredienti che seccano il brufolo infatti se voi ad esempio lo applicate un po' di dentifricio sul brufoletto prima di andare a dormire la mattina dopo lo trovate comunque seccato questo rimedio naturale è il mio preferito in assoluto è quello del tea tree oil però il tea tree oil, ma la leuca è un olio essenziale molto molto potente che non dovete utilizzare puro sulla pelle soprattutto se avete la pelle delicata vi potrebbe seccare troppo la pelle vi consiglio di fare in questo modo di utilizzarlo assieme al gel d'aloe vera quindi unite una goccina di gel d'aloe vera ad un po' di tea tree oil basta una semplicissima goccia, già va bene lo applicate sui singoli brufoletti questo è ottimo lo potete anche mettere su tutto il viso questo gel al tea tree oil che ho fatto in casa soprattutto se avete la pelle impura vi aiuterà tantissimo ragazzi è fenomenato perché gel d'aloe vera e tea tree oil assieme sono una bomba contro i brufoli veramente ottimo un altro segreto è quello di evitare di schiacciare i brufoli ragazze mi raccomando perché se voi li schiacciate praticamente cosa succede? il brufolo si infiamma non ci mette più tempo per andare via quindi poi molto probabilmente vi rimarrà il segno e la macchia e ancora di più praticamente si diffonderà e magari vi usciranno altri brufoletti intorno quindi no 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 se proprio succede che magari avete un appuntamento importante una cosa e quindi avete sto brufolone con quella roba bianca schifosissima e lo volete schiacciare magari perché ci avete giorni, 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 giorni e sta sempre là come un vulcano pronto a deruttare allora magari potete anche schiacciarlo però mi raccomando ragazze utilizzate sempre il gel d'aloe vera col tea tree oil perché così lo disinfettate quindi dopo applicate il gel d'aloe vera e il tea tree oil e magari ci mettete anche un cerottino così in questo modo disinfettate il vostro brufoletto e lo fate guarire ed evitate che si formino altri brufoletti intorno un altro rimedio naturale e questo ve lo dico spessissimo è l'ossido di zinco la pomata all'ossido di zinco ragazzi è favolosa compratela di qualsiasi marca ovviamente è meglio se è comunque naturale comunque senza siliconi, ecobio si trovano anche a suo mercato guardate i miei video recensioni di prodotti a suo mercato ve ne ho consigliate alcune e veramente sono ottime perché l'osso di zinco appunto come vi dicevo prima parlando del dentificio è un ingrediente ottimo per seccare i brufoli lenirli, schiarire le macchie quindi veramente la pomata all'osso di zinco è un toccasana applicatelo singolarmente su tutti i brufoletti poi andate a dormire la mattina dopo già vedrete scomparsi o comunque ridotti i vostri brufoli un altro rimedio naturale questo è anche il rimedio della nonna che mi piace tantissimo è quello della camomilla la camomilla molto spesso viene un po' sottovalutata cioè utilizzata semplicemente per le occhiaie ad esempio come vi feci io anche i patch vi ricordate antiocchiaie con la camomilla ma la camomilla essendo molto lenitiva schiarente è comunque un ingrediente che va benissimo anche per i brufoli perché molto spesso chi ha i brufoli ha anche una pelle molto sensibile che si irrita facilmente molto delicata quindi va benissimo preparare un infuso di camomilla come se la doveste bere e quando si è intipidita raffreddata insomma la potete applicare con un dischetto di cotone su tutto il viso e vi consiglio di farlo ogni sera dopo che vi siete struccati il viso la camomilla è veramente fenomenale se trovate anche prodotti in commercio detergenti creme eccetera alla camomilla sono veramente ottimi per i brufoli perché vanno a lenire i brufoli e man mano li vedrete scomparire anche i segni post-brufoli altri due consigli che mi sento di darvi non sono proprio dei rimedi ma più dei consigli che veramente a me sono stati tanto tanto utili perché ci sono stati periodi in cui anche io avevo più brufoletti non capivo e le cause erano da riscontrare nell'alimentazione voi sapete che comunque da diversi anni che comunque faccio un'alimentazione molto molto sana e quindi ho eliminato determinati ingredienti e anche la mia pelle ne ha beneficiato quindi il consiglio che vi posso dare almeno per me era quello che a me ad esempio le cose che mi facevano uscire i brufoli erano crema spalmabile nut per non dire altro quella me li faceva uscire tantissimo i brufoli infatti il primo motivo per cui non la mangiavo non è perché mi faceva ingrassare ma perché mi faceva uscire i brufoli ok quindi quella là poi ad esempio il salame comunque i prodotti molto grassi i latticini le frutture vanno molto diminuiti perché fanno uscire comunque le impurità i punti neri e i brufoli quindi io questo è il consiglio che io posso dare poi ognuno è libero di scegliere però vedete se li diminuite già vedete migliorare tantissimo la vostra pelle e infine un'ultima cosa ragazzi struccate sempre il vostro viso alla sera e dopo averlo struccato non basta struccare solo il viso lavate soprattutto le persone che hanno la pelle impura quindi soggetta a brufoli impurità con un detergente schiumoso cioè un detergente viso comunque delicato che faccia schiuma dovete proprio farlo schiumare lavare insaponare sciacquare bene il vostro viso così siete sicuri che è andato tutto via quindi solo così avete pulito il vostro viso non basta solo struccarvi con lo struccante quindi questo è tutto ragazzi io spero che questo video vi sia utile e vi sia piaciuto questo video con tanti trucchetti e rimedi miracolosi per eliminare i brufoli anche se molto molto semplici fatemelo sapere con un bel like ci tengo tantissimo se vi piacciono questo genere di video con questi trucchetti questi rimedi semplici fatemelo sapere se vorreste vederlo anche su qualche altro argomento sono a vostra disposizione mi fa tanto tanto piacere farlo vi mando un bacio grandissimo e abbasso i brufoli come finire più intelligentemente ciao ciao Grazie a tutti